Grazie a tutti. Oh, Fergio, dove sei? Il ciclo a sinistra lo fai tutto per girare a destra. Dove c'è il posto? Tu non ti preoccupare, ci sono altre macchine. La voglia, la voglia quello? Sì, sì, sì. Prigati. Ciao. Ciao. Qual è questa storia? La ricotta però gli piace? La ricotta ci piace. Quindi in questo momento che stiamo facendo? E poi mangiamo. Non sono venuta a fare il video, c'era anche lei? Sì, sì, sì. Tu li dovrebbe venire. Sjaka deve venire oggi? Sì. Ma anche non lo vedo per poco. Stai uscendo con il sole? Sì, sì. E quindi quali sono gli step? Qual è il processo? Perché se è il latte lo stavo bollendo e poi con occhio dove sta chiamando la ricotta. Poi non lo chiamano la ricotta e ci mandiamo la ricotta. Sì, non lo vuole però. Sì, non lo chiamano la ricotta e ci mandiamo la ricotta con l'acqua. E il frigo che fa? Il frigo nero. Il frigo che fa? Il frigo nero. Lo spacca? Sì, certo. Lo spezza insieme. Diventa tipo azzurro. E qua quando vengono persone la mattina? Sì, è vero. A fare colazione? Sì, è vero. E i giovani ce n'è? E ragazzi? Anche ragazzi? Dopo il latte ben cotto si vede tutta la schiuma. E quella schiuma diciamo già mio marito si regola che è pronta per buttarci l'acqua e il ramo d'acquisto. E l'acqua è buttata tipo... Tutta, sì, sta buttando. Quella, quant'età, quant'è? Perciò sopra 15 litri di l'acqua se ci deve mettere 25 litri di acqua. Viene il dosso. Ah sì. Se ce ne metto poco non c'è. Ciao. Come? Grazie. Pronto? Come siamo? Come siamo? Come siamo? Ci siamo? Quasi. Io conosco a niente, poi lei conosce. Ci siamo? Quante? Un'altra mezza retta? Stiamo aspettando di assaggiare questa retta. È pronta? Sì, vediamo. Guarda, non è pronta. Stanno... tra un pochino. Quante persone sono venute, mi chiedono? Ah, non lo so. Allora Matteo chi era? Con baglio Matteo. Allora te lo vedete. Allora te lo vedete. Allora te lo vedete. Allora te lo vedete. No. No, te lo vedete. No, te lo vedete. No. No, te lo vedete. Aspetta, che per ora c'è registrazione. C'è registrazione? C'è registrazione. No, hai paura. Sto fai sconfianti, andiamo se si avvicinano alla te. Si, ora adesso. Ha, 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 ha. Non da me che non c'è. Ha, 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 ha. Non si mangia, non si mangia Com'è? Squisita C'è l'istato mai qua? La tua cartina è sbagliata Come è sbagliata? No, può essere Vero? Non lo pensi Sì, sì, siamo arrivati E che te ti levi? Che scenetta Com'è questa ricotta della signora russa? Da quella che si piglia tutta la sua caia La plastica, vedi, che non si mangia La mattina c'è la legge Vedi? 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 Sì, non si mangia le tasse Siamo saliti fino a qua, poi non siamo potuti passare, siamo tornati indietro.